A cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara, Penne. La scuola è una speranza sempre e ovunque, rappresenta la finestra di opportunità per il futuro di ciascun giovane, compito della Repubblica e garantirla costantemente. Dobbiamo renderla più forte ed efficace, lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo discorso all'Aquila in occasione dell'apertura dell'anno scolastico. Anche in ricordo degli studenti morti nel terremoto dell'Aquila di dieci anni fa, ha detto il Presidente, avvertiamo forte la responsabilità di assicurare una scuola di alto livello formativo. Agli studenti e agli insegnanti va garantita ovunque la massima cura per la sicurezza degli edifici, lo ha detto lo stesso Presidente, intervenendo all'Aquila durante la cerimonia, tutti a scuola nel decennale del sisma, presso la sede provvisoria dell'Istituto Comprensivo Mariele Ventre. Anche il nuovo Ministro all'Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo Fioramonti, era stato all'Aquila per la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Fioramonti si è soffermato al suo arrivo per pochi minuti con i giornalisti, rilasciando alcune dichiarazioni sulla situazione delle scuole nel cratere del sisma 2009. È inaccettabile, ha detto che dopo dieci anni non si sia ripartiti soprattutto nel contesto scolastico, quindi, ha aggiunto, ho chiesto una totale inversione di tendenza, un cambio di passo. La nostra presenza qui, ha detto Fioramonti, è una testimonianza di vicinanza e anche una testimonianza di responsabilità, perché dopo dieci anni, diciamocelo chiaramente, le parole non contano più. È anche vero che la difficoltà nella ricostruzione prevede molti livelli di governance, cioè di amministrazione, coinvolti, quindi non c'è una responsabilità di qualcuno in particolare. Però, ha concluso Fioramonti, resta il fatto che una persona seria dopo dieci anni non può fare altro che evitare troppe parole, ascoltare e prendersi la responsabilità di cambiare le cose. Ringrazio il presidente Sergio Mattarella, che con grande sensibilità e attenzione ha scelto proprio l'Aquila e l'Abruzzo nel decennale del sisma per l'inaugurazione del nuovo anno scolastico. Questa non vuole essere solo un'occasione celebrativa. Da questa cerimonia parte una nuova stagione, si apre una nuova speranza. L'Aquila rappresenta un modello di ricostruzione per aver saputo reagire e alzare le testa dopo il terremoto. Purtroppo le scuole sono troppo indietro e con la presenza del Capo dello Stato vogliamo riportare al centro dell'attenzione il cratere sismico per far capire a tutta Italia, al Governo, al Parlamento e alle altre istituzioni che bisogna cambiare passo. C'è bisogno di strumenti più efficaci di quelli messi in campo fino ad oggi. E' il commento del presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, che ieri ha accolto all'Aquila il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e il Ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, insieme al Sindaco della Città, Pierluigi Biondi, al Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, e alle altre autorità. Si è dato così l'avvio alle attività didattiche in una delle scuole simbolo del terremoto, la scuola primaria Marielle Ventre, con un collegamento in diretta, con la presenza anche di testimoni alla quale Flavio Insigna e Francesca Fialdini, e tanti ospiti, e con i bambini delle scuole, tutti protagonisti. Cambiamo argomento. Sono 31.755 in Abruzzo le richieste per reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza. Del totale delle domande, che rappresentano il 2,2% del dato complessivo nazionale, 20.617 istanze sono state accolte, 1.737 sono in lavorazione e 9.401 sono state respinte. Lo fa sapere in una nota l'Inps, che precisa, il dato relativo alle istanze accolte riguarda i nuclei percettori di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza, per un totale di 46.071 persone coinvolte, con un importo medio mensile di 450,80 euro. E quanto emerge dai dati provvisori dell'Inps, aggiornati al 4 settembre scorso, a livello provinciale in testa c'è Pescara, con 5.723 nuclei percettori, 12.757 persone, per un totale di 456,99 euro a famiglia, seguita dall'Aquila con 5.449 nuclei percettori, 12.030 persone e 453,26 euro a testa, Chieti con 5.318 nuclei percettori, 12.032 persone e 436,55 euro a testa, e Teramo con 4.127 nuclei familiari percettori, 9.252 persone e 456,75 euro a testa. La Lega è pronta a partire da qui in Abruzzo per farsi promotrice con tutte le altre forze del centro-destra in regione della proposta referendaria per l'abolizione della quota proporzionale di due terzi dei seggi, così come previsto dall'attuale sistema elettorale per arrivare finalmente a un sistema maggioritario puro. Lo dichiara il segretario regionale della Lega Salvini per l'Abruzzo, Giuseppe Bellachioma, per far approvare l'iter che permetterà di votare la proposta referendaria insieme ad altre quattro regioni italiane di riforma elettorale. La proposta deve partire dai rispettivi consigli regionali attraverso il lavoro nelle commissioni e poi deve passare dalla decisione con il voto nelle aule consigliari, prima di essere soggetta all'approvazione da parte degli enti preposti, in particolare la Corte Costituzionale che dovrebbe approvare l'eventuale referendum. I temi del lavoro. La Filt GGL esprime grande soddisfazione per la forte adesione di lavoratori allo sciopero di quattro ore indotto contro la politica regionale sui trasporti. Il trasporto urbano si è letteralmente fermato a Chieti, Teramo e L'Aquila con punte di adesione vicine al 100%, dato ancor più significativo se si considera, dice la Filt GGL, che due delle tre imprese che operano in questi tre coppolluoghi di provincia sono aziende private, ovvero imprese in cui l'adesione allo sciopero è normalmente inferiore alla media. Anche il trasporto extraurbano regionale ha fatto registrare adesioni importanti con punte del 70%, soprattutto nelle aree interne dove risultano particolarmente evidenti e quindi percepiti dai lavoratori i problemi e le tematiche alla base della dichiarazione di sciopero, mezzi obsoleti e insufficienti, mancanza di investimenti nel materiale rotabile, tagli di risorse e riduzione dei servizi, ricorso alle privatizzazioni, degrado delle sedi aziendali, aziende sull'orlo del fallimento, subaffidamenti e dumping contrattuale, mancanza del biglietto unico su base regionale, altissima evasione tariffaria, ma soprattutto assenza di un piano regionale dei trasporti e di una vera riforma che interessi l'intero comparto. Sui nuovi 17 turni di lavoro alla Sevella di Atessa, scusate, in provincia di Chieti, che saranno introdotti a partire dalla settimana del 7-12 ottobre per una durata iniziale di tre mesi, la Wilm Chieti-Pescara e la Wilm RSA della Sevella ritengono indispensabile trovare un'intesa che migliori le condizioni dei dipendenti. La direzione Sevella il 13 settembre ha infatti ufficializzato alle rappresentanze sindacali la modifica delle turnazioni con l'introduzione dei 12 turni, 10 più 2 e 5 di notte volontaria. Appena due mesi di lavoro per un investimento di circa 220.000 euro e oggi la rotatoria di Villanova è stata ufficialmente aperta al traffico consegnando ai cittadini, a partire dagli automobilisti, una viabilità finalmente snella e agevole per raggiungere il centro abitato moderando e fluidificando la velocità di marcia dei mezzi. Parliamo di un'opera realizzata in tempi record, nonostante il periodo festivo del ferragosto e per tale celerità ringrazio tutto lo staff tecnico della provincia di Pescara a partire dall'ingegner Luigi Urbani e l'impresa esecutrice dei lavori. Nei prossimi giorni verranno conclusi piccoli interventi di dettaglio che comunque non intralceranno l'uso della bretella stradale e della rotatoria stessa. L'ho annunciato il presidente della provincia di Pescara Antonio Zafiri ufficializzando il ritorno del traffico automobilistico a ridosso della nuova rotatoria per Villanova. Oggi è martedì 17 settembre, la Chiesa celebra la memoria facoltativa di San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa. La direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon anniversario di ordinazione sacerdotale a Don Michele Cocomazzi. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 21 a 27 gradi sulla costa e da 22 a 29 gradi nelle zone interne e venti deboli in mare. È previsto calmo. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa metropolitana di Pescara Penne. A voi tutti grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica.